Incensurato ed insospettabile, gioca la carta della trasferta dorata, 36enne di Gela, sorpreso in autostrada dai carabinieri con cocaina per 300.000 euro. Ha tentato di girare la ruota della fortuna, ha giocato alla roulette puntando tra nero e rosso il bianco della cocaina, ha scommesso sui numeri dell'enalotto dello stupefacente, ha giocato le carte della scala reale da Catania a Gela. L'autostrada, la statale 117, una corsa alla cardiopalmo, la droga tra le sue mani come una fiaccola olimpica, poi alt al ponte Olivo, i carabinieri, la scoperta della polvere bianca, arrestato, adesso lui è in carcere. Il suo nome è Vincenzo Bella, lo scorso 21 gennaio ha compiuto 36 anni e di Gela lavora come camionista. Incensurato, insospettabile, però è stato sospettato, forse pedinato, poi pizzicato, poi beccato, poi carcerato. I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta e della compagnia di Gela hanno intercettato il viaggio della speranza di Vincenzo Bella. Una soffiata, l'intuito investigativo, il fiuto indagatore, interrogativi senza risposta. La paletta rossa, Vincenzo Bella è fuori dalla sua automobile, una Renault Megane. La perquisizione del mezzo, sotto il sedile lato guida, avvilmente occultato in una intercapedine. Ecco un sacchetto di cellofan e dentro un chilo e mezzo di cocaina, pura, ancora da tagliare. 1.500 grammi incontaminati che sull'albero del mercato avrebbero fruttato 300.000 euro, circa 600 milioni delle vecchie lire, oltre mezzo miliardo. La cocaina sarebbe stata comprata a Catania e sarebbe stata destinata a Gela per alimentare lo spaccio dei pusher della zona. In città forse lo aspettano, lui però, Bella, il maratoneta della cocaina non arriverà. Grazie.